Ok ragazze, cominciamo. Banda elastica doppia, inserisco la banda, infilo le gambe, altezza sopra il ginocchio e mantengo la posizione, scendo in otto tempi, spingo bene l'ombelico verso terra, posiziono i talloni, i piedi vicino al bacino, larghezza delle anche e sollevo il bacino. Ora apro e chiudo le ginocchia verso l'esterno, le apro e poi le chiudo verso l'interno. Mi raccomando, mantieni ben fissa la posizione, quindi spingi i glutei verso l'alto, apri e chiudi. Apro e chiudo, mi raccomando, 10 serie da 10, ok? Vedrete che glutei, fantastici. Scendo il bacino, mi posiziono sul fianco, destro e sinistro, poi comunque facciamo entrambi i lati. Ora apro e chiudo, sollevo, apro, chiudo, il ginocchio si solleva verso l'alto e si richiude verso il ginocchio di terra. Spingo bene il bacino in avanti, leggermente, non troppo, e mantengo ben stretta la fascia addominale. Mi raccomando, non rilassare la fascia addominale. Ora riposiziono l'elastico all'altezza delle caviglie, sempre posizione laterale, tieni stretto bene l'addominale, solleva e chiudi. Sempre 10 serie da 10, tutti gli esercizi, mi raccomando, eh? Esercizio bomba per i tuoi glutei di ferro, mi raccomando, respira costantemente. Adopo.